Le festività natalizie e l'arrivo del nuovo anno sono festeggiate anche a Monte Carotto con diverse iniziative. In particolare la sera del 31 dicembre, l'arrivo del nuovo anno sarà festeggiato dalla comunità con un cenone nella palestra comunale, a cura della Proloque e dell'Associazione Oltre Confine. Nel giorno dell'Epifania, dalle 8 alle 20, le vie del Comune di Monte Carotto saranno rallegrate dal canto rituale della Pasquella. Questa ventottesima edizione è, come gli altri anni, a cura del Centro Tradizioni Popolari, del Comune e della Proloco di Monte Carotto, del gruppo La Macina, e si svolge con la collaborazione della Protezione Civile Comunale, della provincia e della regione. Dalle 8 e 30 alle 12 il canto viene portato casa per casa in tutte le contrade del Comune, secondo l'antico rituale della Questua, mentre dalle 12 alle 12 e 30 i gruppi partecipanti si ritroveranno in Piazza del Teatro per un concerto spontaneo. Dopo la colazione di saluto e l'incontro con gli amministratori comunali, alle 15 e 30 in Piazza del Teatro, la Pasquella in piazza, rassegna di canti e danze della tradizione popolare a cura di Gastone Pietrucci. Dalle 18 alle 20 l'esibizione è estemporanea dei gruppi tra la gente e riscaldati da Caldarroste e Vimbrulè. Il canto della Pasquella è un canto legato ai rituali di questo del solstizio d'inverno, che ci lega a testimonianze vive di una cultura popolare che è giusto recuperare nella sua interezza e nel suo reale significato. E dunque la giornata del 6 febbraio, l'Epifania del 2012, potrà essere vissuta a Monte Carotto proprio nell'ambito della tradizione del recupero della nostra storia.